La subcultura criminale che caratterizza questo tipo di corse è evidenziata anche dalle foto pubblicate sulle piattaforme social, dove sovente vengono postati video delle corse illegali accompagnate da commenti, da musica neomelodica o comunque spettacolarizzazione che hanno l'obiettivo di raggiungere il consenso di quello strato della popolazione che vive nella illegalità diffusa. Il fenomeno è strettamente legato al tema delle zomafie, poiché, come è stato riscontrato in diverse occasioni, le corse clandestine attraggono diversi interessi, tra cui quello della criminalità organizzata di tipo mafioso. Il dato più preoccupante emerge però dalla riscontrata sottoposizione degli animali a cicli di somministrazione di farmaci di natura dopante, volti a migliorarne le prestazioni sportive, creando un mercato parallelo di farmaci illegali o illecitamente importati dall'estero.